La Russia è in fibrillazione. Domani, venerdì 7 febbraio, inizieranno ufficialmente le Olimpiadi di Sochi. Un avvenimento importante che segna in qualche modo l'evoluzione di una Russia rimasta inalterata per tutto questo tempo. I testimoni che hanno assistito alle prove affermano infatti che si tratterà di una cerimonia tra le antiche tradizioni sovietiche con il loro folclore e la voglia di rinnovamento. Uno spettacolo da non perdere, 40.000 sono le persone che al Fisio Limpi Stadium assisteranno all'evento a partire dalle ore 17. Intanto la Russia parte decisa. Si giocherà addirittura prima della grande cerimonia di apertura, giusto per scaldare gli animi. L'Italia esordirà con devola scanzio nella gara di freestyle specialità GOP alle ore 15. L'Azzurra, 28enne, è alla sua terza partecipazione ai giochi dopo quelli di Torino 2006 e Vancouver 2010. A seguire la grande novità studiata solo per soci, il pattinaggio di figura. L'Italia sarà presente con Paul Parkinson al suo esordio olimpico e con la coppia formata da Stefania Berton e Audrey Otarek. Ma non è finita qui perché ad aprire ufficialmente le danze di queste meravigliose Olimpiadi di soci ci saranno anche le gare di snowboard e slope style femminile. Grazie a tutti.